il treno alta velocità frecciarossa 97 07 di treni italia proveniente da milano centrale e diretto a priesti centrale delle ore 9 e in arrivo al binario 4 attenzioni allontanarsi dalla linea gialla ferma a vicenza padova venezia mestre sandonati piav riesolo portogruaro caorle lapisana ligliano biglione cervignano aquileia grado trieste aereo porto monfalcone il livello disnes è in coda al treno il treno alta velocità frecciarossa 97 16 in treni italia proveniente da venezia santa lucia il treno alta velocità frecciarossa 97 13 di treni italia proveniente da urini il treno alta velocità frecciarossa 97 13 di treni italia proveniente da urini è diretto a milano centrale delle ore 9 0 2 e in arrivo al binario 6 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a desenziano del garda siravione prescia il livello disnes è in coda al treno annuncio ritardo il treno italo alta velocità 89 74 proveniente da venezia santa lucia e diretto a milano centrale delle ore 9 12 arriverà con un ritardo previsto di 45 minuti per ritardo nella preparazione del treno